Ma andate a vedere cos'è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torrida tristezza per cercare di ritornare con quei sogni di uomo che si infrangono con le droghe. E non sono un falso, mi sento ferito e tutti i ragazzi che mi credevano devono parlare. Ciao, Marco. 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 Ciao, Marco.